Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Sulla Fipilin direzione Firenze, personale sulla strada per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano tra i chilometri 24 e 700 e 24 tra Empoli ed Empoli Est. Per la viabilità cittadina a Firenze, fino al 14 settembre via Romana rimarrà chiusa nel tratto tra Piazza della Calza e Via del Ronco per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!